Continua il calo delle aziende agricole in Piemonte. In un anno si è passati dalle 54.522 imprese attive nel 2017 alle attuali 53.102, con una diminuzione di oltre 1.000 unità. Il dato, elaborato da fonti Union Camere, è stato diffuso da Confagricoltura Piemonte, che tracciando il bilancio della nata agraria, sottolinea la necessità di un'inversione di marcia. L'obiettivo è riportare l'attenzione sul settore primario, rimettendolo al centro delle politiche economiche regionali e nazionali e sviluppando un dialogo attivo con l'Unione Europea. Il cambiamento, però, deve partire anche dalle imprese stesse, che per rimanere al passo con l'evoluzione del settore agricolo, devono investire soprattutto su innovazione e formazione. Ci sono ormai tecniche innovative, già molto usate in altri paesi, che devono essere ancora assimilate agli agricoltori del nostro paese, che devono imparare a usare queste tecnologie, devono imparare a lavorare insieme, non più singolarmente come la tradizione italiana, a stringere contratti di filiera con l'industria e a cercare di sviluppare dei mercati nuovi che vanno un pochino a differenziarsi da quello che è sempre stato l'agricoltura tradizionale e i classici modi di vendere i nostri prodotti, che purtroppo non sono più al passo con i tempi. Nel complesso, Confagricoltura parla di un 2018 positivo, per la buona qualità delle produzioni e per l'ottimo andamento dell'export agroalimentare, che in Piemonte, in base ai dati Istat, vale 5,5 miliardi di euro. Punta di diamante è il vino, che da solo rappresenta il 22% dell'export regionale e il 18% di quello vinicolo nazionale. Si tratta però di un'annata fortemente caratterizzata da un clima insolito, con la primavera fredda e piovosa e un'estate a tratti siccitosa. Bombe d'acqua e trombe d'aria hanno poi messo a dura prova le campagne. Abbiamo avuto le prime produzioni, quelle che maturano nel mese di giugno e di luglio, scarse, una produzione di grano e di orzo particolarmente scarsa, albicocco scarso, e poi di lì in poi è andata molto bene, è andata bene per il mais, è andata bene per la frutta estiva, per le pesche, per le mele, per le pere. Qualche difficoltà c'è ancora sul comparto dell'actinidia con il kiwi che registra dei problemi sanitari negli impianti, una vendemmia eccezionale con vini che saranno vini da grande invecchiamento. In ripresa infine il comparto delle carni bianche, con un incremento del consumo di pollo, anche se il maggiore interesse si concentra sempre sui bovini di razza piemontese. Grazie.